Musica Abbiamo deciso di provare a sperimentare in maniera sistematica l'utilizzo dei tablet. Sono riusciti a produrre un racconto della propria esperienza personale. Stiamo bottogliando un attimo il ponte perché ci hanno detto che adesso è pieno di gente che è dal centro, sta invadendo la nostra periferia. L'abbiamo chiuso perché quelli del centro volevano riqualificare tutto. Volevo tornare a vivere in periferia, volevo tornare a vivere in una dimensione pubblica. Sapevo esattamente la difficoltà anche, cioè gli effetti positivi e negativi. Una società si giudica da come vivono le sue periferie. Le case sono luoghi aperti e ospitali. Non è fatta la casa come la madre, come la madre. Come, 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 nelle tutti i cammini. Come, come, nelle tutti i cammini. Come, come, nelle tutti i cammini. E la casa è praticamente tutto. Mi sono ritrovato una reggia da povero, che non serve a niente perché sta cadendo tutto. Non mi serve proprio una reggia. È come se ad un certo punto veramente si entrasse tutti nello stesso ritmo. Come se fosse un filo rosso che ci unisce tutti. Grazie a tutti.